Una persona sicura di sé è capace di apprezzarsi e soprattutto di raggiungere i suoi obiettivi, di vedere la realizzazione di quello che ha dentro di sé. Al contrario, una persona che ha poca sicurezza e poca fiducia in sé stessa tende innanzitutto ad avere pensieri pessimistici legati alla fiducia di sé stessa, alla sua autostima e sarà poco propensa a realizzare in modo più costruttivo i suoi obiettivi di vita, di lavoro, di famiglia, di relazioni interpersonali Per superare questo atteggiamento, che non porta purtroppo da nessuna parte, devi iniziare a modificare i tuoi pensieri negativi. Quindi evita frasi del tipo non posso farcela oppure fallirò sicuramente. Invece di queste frasi, prova invece a dire Ho intenzione di fare del mio meglio, impegnandomi posso farcela. Puoi iniziare a utilizzare questi pensieri positivi in modo graduale, uno o due al giorno. Questo è importante perché a livello poi inconscio la nostra mente registra fondamentalmente quello che noi le diciamo Cambiando prospettiva di vita sarà importante quindi andare a modificare anche i tuoi pensieri pessimistici, negativi. E' importante inoltre che tu conosca persone vitalizzanti, che appunto ti sono care, di cui ti puoi fidare E stare invece alla larga da persone negative, tossiche, che tendono a deprimerti, a criticarti, che ti fanno sentire male Concentrati sui tuoi talenti, impegnati a esprimere la tua creatività, la tua personalità, per esempio Approfondendo diversi interessi, arte, musica, ballo, sport Scopri che cosa ti piace davvero e vai avanti a coltivare i tuoi interessi Sicuramente poi porterai con te degli aspetti che rendono unica la tua personalità Questi aspetti possono essere, possono comprendere il tuo senso dell'umorismo Oppure la tua capacità di saper ascoltare profondamente un'altra persona Oppure potresti essere una persona che è molto forte, nel senso che ha una grande capacità di reagire allo stress Quindi prendi maggiore consapevolezza di quegli aspetti che rendono speciale e unica la tua personalità E per fare questo, per facilitarti in questa presa di consapevolezza Puoi iniziare a metterli per iscritto, a scrivere questi aspetti unici di te stesso o di te stessa Altra azione fondamentale è quella di accettare i complimenti Le persone che hanno infatti una stima di se stesse negativa, bassa Non accettano quasi mai i complimenti Oppure vedono nei complimenti degli altri sempre intenzioni sospettose Non vedono mai delle buone intenzioni invece Al contrario la persona che è sicura di se stessa, che ha una buona stima di sé Accetta i complimenti Non crede che siano stati fatti per errore o che partano da qualcosa di falso Quindi il mio consiglio è quello di aggiungere il complimento ricevuto o i complimenti che hai ricevuto Alla lista dei talenti che dicevo prima Cioè delle tue qualità positive E usare questi complimenti ogni volta che ti rendi conto di aver perso la fiducia in te stesso o in te stessa Bene, grazie dell'attenzione Ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Dottoressa Claudia Sposini Ciao